Ciao a tutti, sono Luca di Bassine e oggi vi andiamo a presentare queste nuove corde fatte dalla Erniball le Erniball Slinky Flat Wound siamo molto curiosi di provarle perché a detta della Erniball dovrebbero essere le prime flat che suonano come le round la particolarità di questa corda è che ha un avvolgimento in lega di cobalto la stessa lega che viene utilizzata da Erniball sulle loro cobalt round quindi dovrebbe aumentare sia il volume che le frequenze riprodotte dalla corda andiamo a montarla su uno storico in Baker e vediamo se effettivamente è così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti